Automaticamente, come vedete, si è collegato all'arenza e all'unificio e si sono fatti dei settaggi particolari che potrei impostare. Ora vediamo cosa posso fare. Qui appunto ho inserito il mio spiriapì nel credor. Questo credor è collegato di HDMI al, ovviamente alimentato, può essere già da ricarica. Passo al, diciamo, al metro superiore e parto con il TV Lancer. Questo programmino parto automaticamente quando mi inserisco il mio smartphone nel credor e mi permette di utilizzare la tastiera e il mouse per telecomandare il telefono. Ovviamente nel credor c'è un recensore al YouTube. Quindi io posso abbinare qualunque tastiera o qualunque mouse. Posso, diciamo, surfare all'interno delle applicazioni. Ci sono alcune applicazioni standard ma posso anche personalizzarlo. Qua vediamo, per esempio, la galleria fotografica. Quindi io posso far vedere le mie fotografie oppure guardiamo l'applicazione un pochino di ufficio, in questo caso ho una presentazione dei telefoni convertita alle slide sui jpeg e posso, diciamo, fare una presentazione con il prossimo ufficio sfruttando semplicemente il telefono senza neanche avere il cibo. Esco da questa applicazione e poi posso, per esempio, andare a gestire i miei strutture gmail. La comodità è quella di poter scrivere in maniera semplicissima. In questo caso, via Gmail, posso rispondere e scrivere i miei messaggi. Un'altra applicazione interessante, per esempio, è la possibilità di guardare Fox Music, in questo caso la possibilità di scaricare il telefono e posso, per esempio, guardare un video con, essendo collegato in HDMI, posso pilotare anche il volume e trascere la tastiera un pochino più su di andare a scaricare il televisore o utilizzare il telefono. Il telefono diretamente sta scaricando il video e posso sfruttare. Ma una cosa interessante, per esempio, è la possibilità di utilizzo di Office Speed. Quindi io qua posso scegliere, per esempio, lavorare su una cartella di lavoro Excel e anche qua, tramite il telefonino, comodamente, posso scrivere all'interno del mio Excel e creare qualità. Salvo sul telefono. Come salvo sul telefono? Salvo effettivamente sul telefono. Poi ovviamente, estendo in rete, posto anche dal telefono, notiamo che io all'interno della rete domestica, oppure all'interno della rete in un ufficio, ho collegato il DLNA con un altro apparecchio computer, posso poi salvare e trasportare, diciamo, un file su questo computer senza cavo, senza doversi gustare a scrivere. Ovviamente, come tutti gli uffici che si rispettano, si gioca a tutti. La cosa libertativa, perché anche la possibilità di giocare con un telefonino, comodamente, se non ha sfruttato, magari potranno gesticare un'altra cosa. Grazie. Grazie. E poi, ovviamente, la navigazione anche internet. con un browser, per Skype, in questo caso, con un browser, posso addirittura simulare un computer normale, quindi non accedere alle versioni mobile dei siti, ma alla versione completa, qua per esempio, accedo al ferriere della sera. in questo caso, per cui potrò la faccia, potrò cambiare i direzzi, quindi, per cui potrò cambiare i direzzi internet e muovermi all'interno della pagina prossima posta. Per l'altro, ho la possibilità di aggiungere qualunque applicazione in foglia all'interno di questa, diciamo, interfaccia facilitata che è in tipo l'angucia, quindi faccio semplicemente aggiungi, vado a scegliere all'interno del mio telefono l'applicazione post caricato, mi interessa. Come vedete, è un modo molto facile di utilizzare lo smartphone, anche per una persona più esperta, perché veramente accedere l'applicazione è facilissimo, la gestione è facilissima, da una tastiera, da un mouse, non devo neanche interagire con il nostro screen e posso veramente utilizzare il telefono come consumere proprio i PC.